Cani di tutte le razze, gatti, conigli, criceti, addirittura cavalli appartenenti sia a privati che a diversi centri IPC locali. Anche quest'anno, nella ricorrenza di Sant'Antonio Abate, si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali in piazza 20 Settembre a Fano, ad organizzare l'iniziativa, il gruppo storico Malatestiano e la Pandolfaccia, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e la proloco Fanon Fortune. Ad impartire la benedizione è stato il vescovo di Fano Armando Trasarti, che poco prima si era ricato nella chiesa di Caregnano, sempre per un analogo appuntamento e dove ha reso merito ai residenti della loro devozione verso il Santo. A portare il suo saluto in piazza alla cittadinanza è stato poi il sindaco di Fano Massimo Seri, che aveva appena incontrato il metropolita degli ortodossi Monsignor Gennadios. È un appuntamento importante, ha detto il sindaco, perché gli animali hanno rappresentato molto nella nostra vita e nella nostra storia, nel lavoro, nella compagnia, in particolare per chi è solo, ma anche nei momenti difficili loro ci sono sempre stati, come per le persone disabili o per le operazioni di salvataggio. Poi Seri ha accolto l'occasione per lanciare un appello, e cioè quello di avere un'attenzione particolare nei confronti di queste creature, perché, ha concluso il primo cittadino, ci sono ancora troppe persone insensibili. Per quelli che non sono riusciti a portarli con sé ieri in centro storico, hanno potuto comunque ritirare il pane benedetto per dar loro da mangiare. Come ha affermato Monsignor Trasarti, la tradizione sta cambiando. Una volta erano compagni di viaggio nel mondo dell'agricoltura, mentre in città oggi sono solo di compagnia gli uomini. Speriamo che il pane possa essere un segno di comunione, di una cordiale vicinanza e solidarietà, anni fa ha raccontato, dividerne un pezzetto significava diventare mai nemici, e benedire significa dire bene di loro per noi, e quindi dirlo pubblicamente e serenamente, gli animali sono un bene per noi, quindi non maltrattiamoli.